Buonasera e ben ritrovati con Decoder. Sono due i temi al centro di questa puntata. Nelle prime due parti vi parleremo delle esperienze per giovani e adulti all'estero sviluppate attraverso il Centro Missionario Diocesano di Bergo. E poi ospiteremo il Presidente della Comunità Montana di Scalve per alcuni progetti che stanno per essere avviati sul territorio. Ma diamo il benvenuto al nostro primo ospite. Con noi abbiamo Michele Ferrari del Centro Missionario Diocesano di Bergamo. Buonasera Ferrari. Ecco poi continueremo anche con due giovani con i quali potremo raccogliere le loro esperienze all'estero. Ma innanzitutto ricordiamo qual è la storia del Centro Missionario Diocesano di Bergamo. La storia del Centro Missionario Diocesano di Bergamo è una storia quasi centenaria. Nasce nel 1921 con l'istituzione dell'Ufficio Missionario Diocesano. L'allora direttore era un prete del Sacro Cuore. E poi si è sviluppata tutta la sensibilità di animazione e formazione nella Diocesi di Bergamo. Con il passaggio poi al Centro Missionario Diocesano negli ultimi anni. Quindi è un ufficio della Diocesi di Bergamo che ha appunto come contenuto specifico la missionarietà della Chiesa di Bergamo. La Diocesi di Bergamo ha una forte presenza di missionari all'estero. Sono circa 600 e poi vi sono tre missioni particolarmente strutturate in Bolivia, Cuba e in Costa d'Avorio. Su quali fronti vengono sviluppati i progetti attivati in modo particolare in questi tre paesi? La Diocesi si è presente in particolar modo in Bolivia, Cuba e Costa d'Avorio. Tre territori diversi l'uno dall'altro, storie diverse, periodi di nascita diversi. L'esperienza principale è quella della Bolivia, nata nel 1962 con l'invio dei primi missionari sacerdoti. È un luogo in cui la missione si è sviluppata parecchio in diversi territori. Quindi è un paese che passa dai 500 metri sul livello del mare fino a 4.000-5.000 metri. Nella storia della presenza missionaria è stato possibile innanzitutto dedicarsi alla pastolare ordinaria delle parrocchie affidate ai sacerdoti. E poi le prime esperienze di collaborazione con le altre congregazioni presenti nella zona di Bolivia, dove hanno visto appunto la nascita di strutture dedicate all'aggregazione, alla scuola, alla sanità e poi ovviamente la nascita di parecchie chiese o di villaggio oppure chiese della città. Diversamente la storia di Costa d'Avorio, nata nel 1975, dove c'è un lavoro incredibile dal punto di vista della pastorale, territori molto più ampi, anche qui la presenza di diversi sacerdoti, diverse missioni, con la cura della pastorale ordinaria di questi luoghi. La terza realtà è la terza realtà di Cuba, nata nel 1999. È un luogo un pochino più delicato perché la presenza deve essere un attimino commisurata con la dimensione sociopolitica del paese e quindi qui si tratta proprio di una pastorale di cura delle persone che si rivolgono ai nostri sacerdoti per l'iniziazione cristiana, piuttosto che la formazione, piuttosto che la catechesi. Ecco, abbiamo detto che sono circa 600 i missionari bergamaschi che sono presenti all'estero, comprendendo anche tanti altri paesi, oltre alle tre missioni che abbiamo appena citato. Ma quali categorie di missionari possiamo ricordare? Sì, dici bene 600, una grande cifra perché dietro a 600 missionari ci sono 600 comunità, 600 famiglie, quindi capisce lei la grande attenzione che c'è sulla missionarità in questa diocesi. Le categorie principali sono sacerdoti, quindi che scelgono di partire in accordo con il nostro Vescovo e trascorrono alcuni anni in questa terra di missione e svolgono lo stesso ruolo che svolgono nelle nostre parrocchie. Quindi la dimensione appunto della cura delle persone, delle strutture e della pastorale ordinaria. A fianco degli sacerdoti ci sono laici che sempre più chiedono di partire, quindi un'esperienza interessante dall'esperienza che può andare da un anno fino a 3, 4 o addirittura 10 anni per persone che poi scelgono di rimanere in questi paesi. E poi abbiamo suore e altre figure appunto di religiosi che partendo dai loro istituti presenti sia in Bergamo che fuori diocesi garantiscono la loro presenza in questi territori. E poi ci sono delle esperienze che vengono attivate, che coinvolgono persone che gravitano in queste missioni per periodi relativamente brevi, quindi esperienze che possono interessare giovani e adulti. E tutte queste persone prima di partire vengono formate, seguono un percorso specifico. E a febbraio vi saranno i corsi destinati sia agli adulti sia ai giovani. Ma allora ricordiamo un po' l'importanza di questa formazione. Esatto, la formazione per avvicinarsi al mondo della missione è fondamentale. Formazione che già i gruppi missionari parrocchiali fanno costantemente con le proposte legate al centro missionario. Nello specifico per i giovani e per gli adulti abbiamo elaborato in questi anni dei percorsi di avvicinamento appunto alle esperienze brevi di missione. Quindi si propone di rascorrere circa due o tre settimane tendenzialmente nel periodo estivo nei luoghi di missione. Però per avvicinarsi alle questioni contenute, alle dinamiche della missione è importante appunto svolgere questo percorso formativo. Dai 18 ai 35 anni tendenzialmente si svolge il sabato pomeriggio dove l'esperienza principale è la condivisione con altri giovani che scelgono di fare questa esperienza e chiedono di fare questa esperienza. E poi l'approfondimento delle classiche tematiche come l'ingiustizia, le guerre, che ci sono le storie dei paesi in cui loro andranno in visita. Per gli adulti, dai 35 in su, è un'esperienza che sta emergendo molto in questi ultimi anni. Una persona sceglie appunto di trascorrere un breve periodo, spesso magari in missioni un po' più vicine, quindi magari anche in Europa, e quindi anche per loro la formazione è il giovedì sera e sono momenti innanzitutto di condivisione e di conoscenza. Ecco, abbiamo visto anche le locandine con anche le date di questi appuntamenti. Possiamo magari ricordarle anche a voce, probabilmente qualcuno le ha già anche annotate perché le ha viste scorrere grazie alle regie che prontamente già le ha mostrate. Ma ricordiamole comunque, Michele. Allora, per i giovani il percorso inizia l'8 febbraio, alle ore 17, nella nostra sede al centro missionario in via del Conventino a Bergamo, e per gli adulti il 13 febbraio. Due percorsi distinti che però si incroceranno nell'occasione del convegno missionario che ogni anno facciamo, quest'anno si svolgerà l'8 di marzo, dove i giovani parteciperanno come animatori dei ragazzi che parteciperanno, circa 1.500 ragazzi che arrivano dalle nostre parrocchie. E gli adulti parteciperanno invece alle conferenze, agli interventi dedicati appunto a loro, sia per il sabato che per la domenica. È un po' cambiata la modalità con la quale queste persone si inseriscono nelle missioni all'estero. Un tempo forse erano più chiamate a svolgere dei compiti, forse perché vi erano delle necessità specifiche, quindi venivano arrulate persone con competenze tali da soddisfare alcuni bisogni. Oggi invece è più un inseramento, più una modalità di cooperazione, quasi potremmo richiamare il semplice verbo, un'occasione con cui stare con gli altri. Esattamente, diciamo che l'indicazione in questo periodo è appunto la cooperazione fra le chiese. Un tempo ovviamente c'era anche la necessità di costruire gli ambienti che andavano ad ospitare poi le diverse attività, quindi la richiesta era di tipo più manuale. Ciò nonostante c'era comunque una dimensione relazionale che è fondamentale. Non diciamo sempre ai ragazzi, soprattutto, che scelgono di fare questa esperienza, che il primo passo è quello di andare e condividere la quotidianità, il tempo e lo spazio in una cultura completamente diversa dove è necessario imparare nuovamente a muoversi. In questo caso i missionari sono dei maestri, delle guide fondamentali. Ma questo vale anche per gli adulti. Sicuramente un adulto cerca un po' quello di spendersi dal punto di vista anche pratico. C'è la possibilità, ma non deve diventare l'unico obiettivo, l'unica motivazione per andare a vivere l'esperienza. Innanzitutto un incontro fra persone. Avete già dei numeri? Avete già un'idea di quante persone potrebbero prendere parte a questi percorsi di formazione? Sì, diamo indicativamente la richiesta di circa 50-60 ragazzi che già stanno richiedendo appunto l'esperienza. Si fa una sorta di chiacchierata iniziale, si cerca un po' di capire un po' le indicazioni pratiche e per gli adulti una decina. Quindi ovviamente per l'adulto è un po' più faticoso trovare anche la disponibilità di tempo, quindi il discorso delle ferie. Quindi i giovani tendenzialmente viaggiano nel periodo di luglio-agosto. Per gli adulti invece si fa una proposta più calata sulle richieste personali, quindi si può anche viaggiare nel periodo di settembre, ottobre o novembre. Ecco, poi queste persone fanno magari una scelta di quelle che possono essere le possibili destinazioni. Come funziona? C'è la possibilità di scegliere, noi ovviamente raccogliamo nei mesi precedenti le disponibilità di tutti i missionari bergamaschi che in base anche alle loro dinamiche possono ospitare tre, quattro, cinque persone. Definiamo dei periodi, le proponiamo ai giovani, diamo anche un minimo di contesto perché potrebbe esserci un contesto sanitario, un contesto educativo, un contesto aggregativo, allora si sceglie anche in base a questo tipo di contesto e ai giovani vengono chieste tre scelte, quindi una prima scelta che è la prioritaria che noi cerchiamo di soddisfare e mantenere, ma se per motivi magari pratici non è possibile, si ricade sulla seconda e la terza scelta. Tendenzialmente l'America Latina è un pochino più semplice per una prima esperienza perché alcune dinamiche sono più simili alla nostra cultura, l'Africa e l'Asia magari richiedono un pochino più di attenzione, un po' più di esperienza. Quindi una preparazione immagino che possa garantire a questi ragazzi di essere pronti anche ad affrontare situazioni di ogni tipo, anche magari qualche emergenza, quindi immagino una formazione completa. Ci possono essere imprevisti, noi tendenzialmente comunque sottolineiamo soprattutto per le famiglie che i giovani vengono mandati in contesti protetti perché vengono accolti da missionari bergamaschi in strutture che hanno le dinamiche simili alle nostre, quindi vengono costantemente accompagnati, non sono mai soli, ecco anche perché è il motivo di viaggiare in gruppo. Però sicuramente possono esserci degli imprevisti, magari dovuti anche a questioni atmosferiche. E quindi l'esperienza formativa ti aiuta un po' a mettere in conto appunto tutte queste questioni e soprattutto la conoscenza di un paese nuovo. Sei comunque straniero, spesso la lingua non la conosci, quindi è importante comunque prepararsi. Noi ora ci fermiamo per una breve interruzione, voi restate con noi al rientro, sentiremo anche alcune esperienze che ci condivideranno due giovani. Grazie, a tra poco. Eccoci in onda, ora diamo il benvenuto anche a Francesca Rota e Marco Merisio, volontari in missione. Buonasera a tutti e due. Buonasera. Allora, tentiamo di capire un po' innanzitutto quanti anni hanno, cosa fanno nella vita e dove sono stati. Allora, partiamo da Francesca. Buonasera, sono Francesca, ho 24 anni e frequento l'Accademia di Belle Arti di Brera. Sono all'ultimo anno di magistrale con indirizzo fotografia artistica. Sono partita per la prima volta nel 2014, sono stata in Etiopia, nel 2015 in Bolivia e nel 2016 sono tornata in Etiopia. Negli ultimi tre anni ho fatto inoltre delle esperienze di volontariato in Bosnia-Herzegovina. Sentiamo anche Francesco, anzi scusa Marco. Buonasera, sono Marco, sono un farmacista e lavoro nella comunicazione online. Sono di Bergamo e ho fatto un'esperienza con il centro missionario in Argentina e più precisamente a Chimilì nel 2018. Allora, innanzitutto, qual è la spinta motivazionale che di fatto vi ha dato un po' la voglia di mettervi alla prova con un'esperienza come questa? Francesca. Sicuramente è la voglia di scoprire l'altro, l'altro diverso da me. Io sono partita per la prima volta che avevo appena 18 anni, quindi lo ripeto sempre, un po' incosciente, ma con una voglia di colmare un vuoto dentro. Sicuramente quell'estate, che era l'estate della maturità, sarei potuta andare, non so, a Ibiza piuttosto che a Riccione, invece ho sentito questa spinta dentro, quindi principalmente per scoprire il diverso da me, che poi è risultato essere uguale. Marco? Per quanto mi riguarda, invece, la motivazione è stata quella di andare a vedere realmente cosa c'è dall'altra parte del mondo, e poi scoprire così nuove culture. Ho fatto questa esperienza dopo i 30 anni, quindi diciamo che ho potuto maturarla, e sono arrivato a un punto che mi sentivo ribollire dentro, fino a quando poi sono venuto in contatto con il centro missionario di Bergamo, e ho potuto così, poi dopo aver frequentato il percorso formativo, ho potuto partire. Allora, torniamo da Michele. Le motivazioni sono diverse, si va da ragazzo a ragazzo? Sono diverse, tendenzialmente c'è la voglia di fare un'esperienza forte, particolare. Per molti è la prima esperienza all'estero, lontano da casa, quindi varia molto la spinta che uno ha a 18 anni rispetto a 30 anni. Il vocabolario che utilizzo è quello di andare, ad aiutare, dare una mano, e il percorso formativo aiuta anche a rileggere le motivazioni personali, che poi diventano una motivazione di gruppo, perché i ragazzi fanno un'esperienza di gruppo, quindi il viaggio stesso poi ti aiuta a ricomprendere un po'. Spesso nel percorso formativo chiediamo le motivazioni, e al rientro richiediamo nuovamente se le motivazioni sono cambiate, e spessissimo ne scoprono altre, perché sicuramente il viaggio è molto arricchente. Allora Francesca, questo percorso formativo perché è importante? Il percorso formativo è importante perché il viaggio parte proprio da lì, quindi si iniziano a conoscere i ragazzi con cui insieme si farà il viaggio, e soprattutto per iniziare ad entrare un pochino nell'ottica della missione, che spesso ci sfugge un po' nella nostra quotidianità. Quindi sicuramente aiutare nei confronti di alcune paure che nascono prima dalla partenza, che possono essere appunto la paura di essere molto lontani da casa, di non avere sempre tutto a disposizione, ma soprattutto anche per capire come si potrebbe vivere un'esperienza così lontano da casa, quindi insieme al missionario e alla comunità che accoglie proprio lontano da casa. Marco, questo corso cosa offre? Sì, oltre alle cose che giustamente ha detto Francesca, diciamo che dà la possibilità, visto che le emozioni e le sensazioni che uno incontra quando si trova in missione, diciamo è bombardato da queste emozioni, e il percorso aiuta a comprendere meglio certe dinamiche che si possono incontrare in missione. Un altro dei presupposti che permette il percorso di formazione è appunto di poi entrare, quando si va in una nuova realtà, in un posto dove uno è considerato, diciamo, straniero, a quel punto dà la possibilità di entrare in punta di piedi comunque in una realtà che è nuova. Marco, in che contesto ti sei calato in Argentina? Io sono stato ospitato dai missionari padri Escolapios, sono dei missionari che è un ordine fondato sul fatto che la cultura e le possibilità scolastiche possono poi creare un futuro alle nuove generazioni. Nel Akimili questi padri gestivano due scuole, una in particolare all'esterno del paese che raccoglieva tutti i bambini, diciamo che erano in un contesto sociale piuttosto difficile e oltre all'istruzione permettevano anche a questi bambini di essere nutriti in modo corretto, offrendo quindi oltre all'istruzione anche i pasti, la colazione, il pranzo e la merenda. Quindi c'è stata la possibilità di stare vicino a queste persone, anche a questi missionari? Sì, poi quando uno va in missione, ecco il discorso dello stare in missione è che uno poi viene coinvolto nelle dinamiche delle giornate del missionario, nelle dinamiche poi quelle della missione, nell'ambiente che uno incontra e poi anche nelle dinamiche delle persone che uno incontra costantemente durante le giornate di missione. Poi andare a dire effettivamente cosa fa uno in missione è sempre molto difficile, anche perché come dicevo prima le emozioni e le sensazioni sono veramente gigantesche. Francesca, Etiopia, Bolivia, Bosnia, cosa possiamo riassumere da queste esperienze? Allora, sicuramente l'esperienza più forte è stata quella in Etiopia, che poi ho ripetuto, non tanto perché mi ha dato di più, perché l'ho vissuta proprio in più giorni, ecco, ho avuto questa possibilità. Sono stata ospitata dalle suore orsoline che hanno sede a Gandino e in via Masone e con queste suore abbiamo proprio creato un legame che tutt'oggi è ancora forte. Infatti a me piace sempre ricordare questa cosa, che non c'è giorno che passa, che io non penso là. Con loro le suore hanno delle scuole e quindi siamo state proprio con i bambini, io e altre due ragazze con cui sono partita e insieme, facendo giocare i bambini, abbiamo trascorso un po' le nostre giornate seguendo le suore missionarie. Quindi se c'era bisogno di andare al mercato a comprare il pane si andava per darlo ai bambini, piuttosto che seguire la suora durante delle cerimonie che passavano dai funerali ai matrimoni, quindi seguendo veramente in tutto e per tutto ciò che capitava durante ogni giornata. Abbiamo dato pochissimo delle nostre possibilità perché l'idea proprio era di lasciarsi emozionare e stare insieme alla gente senza programmare nulla ogni giorno e quindi è sempre più quello che ci viene lasciato che quello che noi doniamo a loro. Per quanto riguarda la Bolivia sono stata in varie comunità La Paz e Cociabamba e anche lì è stata un'esperienza diciamo molto significativa sotto vari punti di vista. Sono stata anche lì con i ragazzi e ho seguito i missionari. L'esperienza alla Bosnia è un pochino differente. Si tratta di una settimana ogni anno dove si vanno a portare aiuti umanitari e lì forse è un pochino la più concreta ma che in realtà quando tu dai del cibo ti accorgi che poi è sempre più quello che ricevi che sono i sorrisi di queste persone e soprattutto dei bambini negli orfanotrofi e negli ospedali psichiatrici. Anche qui abbiamo sentito quelle che sono le gratificazioni che ricevono questi ragazzi. Sì, è una gratificazione che sicuramente passa, come dicevo prima, attraverso la relazione. È come se si tornasse ad essere più sensibili e che appunto i sensi sono molto più allerta in queste esperienze di missione. Hanno però delle grandi guide, dei grandi maestri quindi è anche la condivisione con i missionari attorno alla tavola durante la cena che avviene quella magia della relazione in cui il missionario diventa una figura credibile che entra in dialogo con la storia del giovane e attraverso le domande, attraverso i racconti si intessa appunto questa storia che poi sicuramente, come spiegava bene Francesca, rimane anche al rientro. Marco, andare in missione consente poi di tornare con delle lenti che poi consentono di vedere il mondo in un modo diverso? Beh, sicuramente quando si entra in contatto con una cultura differente poi quando si ritorna si vedono certe situazioni nella nostra società in modo diverso. L'altra cosa che fare un'esperienza in missione ti lascia è che è molto più quello che poi uno riceve come è stato giustamente detto rispetto a quello che poi uno effettivamente va a dare. cambiano un po' il modo di vedere cambia nella quotidianità e poi l'altra cosa che secondo me è importante ed è un modo per rimanere comunque collegati anche all'esperienza e portarsela sempre dietro è poi andare a raccontarla e rivivere poi il percorso con i giovani che ogni anno si avvicinano poi al centro missionario. Francesca? Condivido il fatto della restituzione che è importante soprattutto appena si torna si è spinti da una grande emozione e da un desiderio del racconto che poi appunto quando hai dall'altra parte persone che ti ascoltano ti rendi conto di quanto tu abbia veramente vissuto in missione e sì, si torna con delle lenti sicuramente diverse non sei un eroino, non sei nessuna sei semplicemente una persona che riesci a vedere un pochino di più e come diceva Michele con una sensibilità sviluppata un pochino diversa e quindi magari ti accorgi di cose che prima non ti accorgevi e soprattutto del tempo di quanto sia importante il tempo qui ci sfugge sempre spesso e invece quando sei in un paese lontano il tempo è dilatato quindi ti rendi conto che poi il tempo è comunque una giornata fatta da 24 ore e puoi sempre far tutto a volte qui dici non ho tempo invece non voglia e invece lì la bussola del tempo la riprendi Ecco allora Michele sono tanti spunti anche che ci hanno dato con questi ultimi passaggi questi ragazzi cosa possiamo aggiungere in chiusura? Beh sicuramente il valore del viaggio io credo che sia l'esperienza da consigliare al nostro contesto giovanile perché mettersi in movimento lasciare anche le certezze che uno ha a casa noi comunque tutto sommato viviamo in un contesto gradevole siamo pieni di agio e sicuramente mettersi alla prova l'esperienza che la missione ti regala ma sicuramente è quello che tu ricevi che come appunto è stato sottolineato più di una volta molte volte uno non lo fa per mancanza di occasione per mancanza di voglia penso che queste due testimonianze di Marco e Francesca ci dicano che è importante anche cogliere le occasioni che magari ci vengono date la solicitazione va anche nel mondo degli adulti quindi essere capaci di ascoltare questi desideri che i giovani hanno di mettersi in moto di mettersi in viaggio e creare per loro le occasioni e le opportunità anche gli adulti però possono prendere parte a questi progetti anche gli adulti sicuramente possono a loro volta partire non è mai troppo tardi molte volte arrivano persone che ci dicono ma io ho una certa età ma non preoccupatevi abbiamo avuto missionari e missionari che sono partiti fino a 85-86 anni quindi se c'è il desiderio e la volontà le possibilità ci sono molto bene allora noi ringraziamo i nostri ospiti in studio noi ci stiamo per fermare per una breve interruzione al rientro volteremo pagina e ci occuperemo della Valle di Scalve grazie a tra poco